Musica Incontro comandante Molino, novità rispetto a chi si macchierà di abbandono dei rifiuti per strada? Sì, è un atto doveroso da parte dell'amministrazione comunale e del sindaco in particolare. La prefettura di Catania e la protezione civile ci hanno comunicato che in questi giorni e nei prossimi giorni la cirale sarà oggetto di particolare caldo, ondate di calore con livello 3 che è il livello massimo previsto. Questo fatto sicuramente ha una refluenza di carattere igienico-sanitario e legato al malcostume e all'inciviltà di coloro i quali abbandonano i rifiuti per strada ha obbligato l'amministrazione comunale a colorare in modo particolare questo comportamento che nei prossimi giorni sarà punito con una sanzione penale. Ovvero è stata emessa un'ordinanza contingibile, urgente, temporanea fino al 7 luglio che comporterà l'applicazione appunto di una sanzione penale. Si tratta dell'articolo 650 del codice penale che è l'inosservanza di un provvedimento dell'autorità, in questo caso in materia di igiene e sanità pubblica. La multa aumenterà da 50? Contemporaneamente si sta provvedendo anche all'emarazione dell'ordinanza generale sul conferimento dei rifiuti porta a porta che innalza la sanzione per questo tipo di comportamenti a 250 euro. Questo in via generale, quello è un provvedimento temporaneo, contingibile, urgente, quest'altro invece è quello ordinario. Signor Barbagallo, quindi adesso cosa succede, che novità ci sono rispetto alle sanzioni che verranno inflitte a chi abbandona spazzatura per strada? La conferenza stampa perché sono di fatto state fermate due ordinanze, mie appunto, due ordinanze sindacali che intanto fa una ricognizione di quello che è stato fatto e di come deve avvenire il conferimento e eleva di fatto le multe da 50 a 250 euro, fermo restando che c'è anche la possibilità di arrivare a 600 euro e quindi ci sarà appunto maggiore controllo da parte della Polizia Municipale di chi ha detto a questo. In più, considerate il fatto che siamo in un periodo pesante anche dal punto di vista delle temperature, nell'altra ordinanza disponiamo all'azienda di rimuovere nel più breve tempo possibile i cumuli che la gente in civile continua purtroppo a buttare nella nostra città. Dall'altra parte, per questo periodo scatterà una misura anche di tipo penale, nel senso che chi verrà preso in fracanza di reato, quindi che lascia la spazzatura per terra, avrà per questi 7-10 giorni, proprio perché c'è anche questa contingenza di calura, sarà appunto potrà essere accusato anche penalmente, perseguito appunto penalmente. Di fatto si tratta di due ordinanze che continuano a restringere il campo. Noi ad oggi siamo quasi all'80% del territorio, continuiamo a ringraziare, a incendivare tutte le persone e sono la stragrande maggioranza che fanno la differenziata, anche se a volte c'è stata qualche criticità rispetto al ritiro in qualche zona. Ma questo è normale perché siamo in un momento di passaggio dalla raccolta indifferenziata alla raccolta differenziata, quindi c'è la maggior parte appunto dei cittadini che fa la differenziata e la fa bene. Dall'altra parte dobbiamo colpire chi continua in maniera appunto incivile a buttare per strada la spazzatura e cercare anche dall'altro lato di fargli capire che occorre cambiare assolutamente atteggiamento. Quando la ditta non ritira in tempo invece avete pensato anche in questa direzione nelle sanzioni? La ditta quando non ritira in tempo viene multata come è stata multata in questi giorni, c'è un ufficio ad hoc che si occupa appunto di seguire o di far recuperare la ditta perché a volte il recupero è avvenuto anche durante la notte o la mattina dopo, proprio perché il servizio deve essere regolarizzato nel più breve tempo possibile. Però capite bene che il territorio di Acireale non è il territorio di Acibonaccorso o di un'altra città più piccola, non me ne voglio un altro paese, è un territorio piuttosto vasto, 50.000 abitanti e quindi passare da un sistema di raccolta indifferenziata a un sistema di raccolta differenziata porta a porta nel giro di sei mesi era normale, era prevedibile che chiaramente qualche criticità veniva fuori. Certo speriamo, anzi dobbiamo contrastare anche e soprattutto chi arriva da fuori perché ancora è constatato da me personalmente perché anch'io mi sono occupato di controllo del territorio e ho multato persone, ho fatto multare persone e ancora purtroppo c'è chi arriva da Aci Sant'Antonio, c'è chi arriva da Santa Venerina, c'è chi arriva da altre città. Vedendo ancora i cassonetti o dei cumuli, pensa che Acireale sia una città dove si può fare di tutto. Con questa ordinanza, ripeto che è molto restrittiva, intendiamo colpire anche queste persone. Credo che sia giusto, la città lo merita, i cittadini che oggi con grandi sacrifici e sforzi e che avremo sicuramente dei risultati in futuro, stanno facendo il loro dovere. Per questo li ringraziamo. Anche nei quartieri dove si pensava ci fossero maggiori problemi. Invece no, la risposta è positiva, dobbiamo dirlo. Nonostante qualcuno posta sulla rete foto diverse, dobbiamo far vedere il lato positivo della città, non il lato negativo. Perché se noi facciamo vedere il lato positivo, tutti si fanno coinvolgere, quindi si arriva all'obiettivo. Lo sapevamo che era difficile, però l'assessore Fighiera, che ringrazio, ha messo la faccia dal primo momento. Ripeto, in sei mesi abbiamo stravolto totalmente il sistema di raccolta nella città. Era normale, ed è normale che ci fosse qualche criticità. Dobbiamo semplicemente pazientare e risolverla nel più breve tempo possibile. Però non si può fare assolutamente un basso indietro.